In questo momento di pandemia Covid abbiamo deciso noi infettivologi di Puglia e Basilicata di vederci il 17 e il 18 di dicembre con una finalità, quella di fare il punto di quella che è la situazione delle due regioni e confrontarci con le istituzioni per quelli che sono le misure da prendere in atto per il futuro. Che cosa ha caratterizzato il nostro convegno? Innanzitutto un intervento di altissimo valore scientifico, quale quello del professor Giuseppe Ippolito, un amico per noi infettivologi, infettivologo e membro del CTS che logicamente ci ha fornito delle indicazioni molto importanti su quello che sarà il futuro prossimo della pandemia e sul ruolo delle malattie infettive. Molto utile è stato anche l'intervento delle amministrazioni, cioè di coloro che gestiscono e decidono su questa emergenza. A tal proposito, oltre all'intervento del professor Lopalco, sempre completo appunto che ha riguardato quello che succede in tutta la Puglia, è stata molto utile anche la chiacchierata con il dottor Vitangelo Dattoli, commissario straordinario del Policlinico di Foggia, l'ospedale dove io presto servizio e devo dire che l'esperienza di tutti questi mesi di continuo contatto tra la direzione sanitaria e generale e tutti i clinici coinvolti nell'emergenza Covid, quindi pronto soccorso, rianimazione, malattie respiratorie e malattie infettive, ha visto un progressivo miglioramento della gestione dei pazienti e soprattutto nel gestire l'emergenza degli ultimi mesi. Tant'è vero che il ruolo delle malattie infettive è stato confermato dal fatto che è stato possibile aprire un altro reparto di malattie infettive di 30 posti letto che ha permesso di assorbire tutta una serie di urgenze che intasavano il pronto soccorso. Il convegno si è sviluppato in due mezze giornate, logicamente via web, dettato appunto dalle misure restrittive e ha affrontato le problematiche inerenti il Covid, non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista organizzativo e anche legislativo e altre tematiche che riguardano le altre malattie infettive, HIV, HCV e infezioni ospedaliere che rappresentano il cuore e rappresentano anche il futuro delle malattie infettive. Quindi prepararsi a un 2021 con il Covid ma anche con la ripresa delle malattie infettive.